Il caldo record in Italia Caldo record in Italia, ecco quando finirà, previsioni meteo per i prossimi giorni Quando finirà il caldo record di questi giorni? Se lo chiedono in molti, in particolare al centro-sud dove anche oggi si registrano temperature molto elevate e anche domani non cambierà molto. . Sul tacco d'Italia. . Non va meglio in Calabria, Sicilia e Sardegna dove si registrano temperature diffusamente sopra i 35 grado, con 39 grado a Luzzi, Cosenza, 37,5 grado a Gioppolo, Vibo Valencia, 36.1 grado a Palermo Centro, 36.4 grado a Ozzieri, Sassari. . Nei prossimi giorni spiegano i meteorologi del centro Epson Meteo. . Ita al centro-sud e sulle isole continueremo ad osservare temperature estremamente alte fino a giovedì con picchi ancora intorno ai 38-40 gradi, in seguito il caldo si attenuerà anche su queste zone, dapprima al centro e sulla Sardegna, poi, tra venerdì e sabato, anche al sud e in Sicilia. . Le previsioni Meteos Urban Post. Al nord invece si respira dopo giorni di caldo eccezionale. Questo grazie ai temporali che sono arrivati domenica con un flusso instabile che continuerà ad interessare queste regioni anche nei prossimi giorni. . I temporali spiega Antonio Sanno, direttore del Meteo.it nei prossimi giorni saranno abbastanza diffusi al nord, in particolare su Alpi e Prealpi, spesso anche verso le pianure. . Poi, nella giornata di domani e giovedì, i temporali raggiungeranno localmente anche il centro, specie Toscana, Umbria, Marche, verso Abruzzo, nord Lazio. Le previsioni per domani, mercoledì 9 agosto 2017. . . Domani al nord ci saranno condizioni di spiccato maltempo al mattino su Lombardia e Trentino Alto Adige, con rovesci diffusi. Nuvoloso sulle altre aree del nord, con possibili rovesci in serata anche su Veneto e Frioli. . . Al centro condizioni di bel tempo e cielo sereno su tutte le regioni, salvo sporadici annuvolamenti sulle zone appenniniche che potrebbero dare luogo a isolati piovaschi. Al sud cieli sereni o poco nuvolosi. . . Le temperature minime saranno in aumento su tutta Italia, salvo al nord-ovest. Le massime invece saranno in crescita sul nord-ovest, sulle regioni adriatiche centro-settentrionali, stabili invece al centro-sud. Tutte le news meteo su Urban Post. . . Le previsioni per giovedì 10 agosto 2017. Giovedì 10 agosto 2017 al mattino maltempo diffuso sul Frioli Venezia Giulia, in attenuazione nel corso della giornata. In serata maltempo contemporali su Lombardia Centro-Orientale e Veneto. . Al centro sereno o poco nuvoloso, con addensamenti pomeridiani sulle zone interne, via via più intensi con possibili precipitazioni nelle ore serali sulle zone a ridosso degli Appennini. Al sud e isole ancora cielo sereno o poco nuvoloso con assenza di precipitazioni. . . . Le previsioni per giovedì 10 agosto 2017 Copyright Urban Meteo Le città da Bollino Rosso domani. Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. Bollino arancione per Ancona, Pescara e Trieste. . Il bollino rosso spiega il Ministero della Salute indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo su sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone con malattie croniche. . 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